Sì, questa era la mia vita di un forno, il forno, questa è la mia vita. Poteva fare le scuole, poteva fare le scuole. Pari, 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 pari! Oreglia, madonna! Ma non è la mia vita? Poi, non è la mia vita? Poi, non è la mia vita? Poi, non è la mia vita? Grazie, bravo, bravo, Riri! Brava!